Rivoluzione del traffico nel quartiere Cassaro a Palermo. A fine mese scatterà infatti la chiusura, annunciata nei giorni scorsi dal sindaco Leluc Orlando, che farà dire addio alle auto nella zona di Corso Vittorio Emanuele, da Porta Nuova fino ai Quattro Canti. Mezza corsia sarà dedicata esclusivamente ai pedoni e delimitata da fioriere. L'altra metà, invece, sarà destinata solamente ai residenti dotati di pass, ai bus turistici, alla navetta e ai mezzi delle forze dell'ordine e di soccorso. Il traffico, che prima arrivava fino alla cattedrale, adesso sarà bloccato prima di Porta Nuova e dirottato su Corso Alberto Amedeo, che diventa così a doppio senso di circolazione fino a piazza per anni. Il nuovo piano del traffico, che stravolgerà la circolazione in quest'area della città, entrerà in vigore entro il 2 luglio ed è funzionale a quel progetto, voluto dall'amministrazione comunale, per creare un itinerario arabo-normanno intorno ai monumenti riconosciuti patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. In questo caso si tratta quindi di Palazzo Reale, della cattedrale con annessa Cappella Palatina, la chiesa della Martorana, San Cataldo, San Giovanni degli Eremiti, il Ponte dell'Ammiraio e la Zisa. Non sono previste caratterizzazioni pedonali alla strada, mentre dalla cattedrale fino a piazza Viena diventa una vera e propria zona a traffico limitato. Dovremmo fare alcune modifiche ai percorsi degli autobus, ha spiegato l'assessore alla mobilità Giusto Catania. Stiamo studiando come rimodulare la linea verde, che dal parcheggio Basile attraverserà il Cassaro senza passare da Porta Nuova, evitando il passaggio a Piazza Indipendenza.